Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona Peppe! Buona Peppe! Buona è buona, vai! Buona Peppe! 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 André! André! Nooo! Menomale che l'ha presa! No, perché dopo due passate di seguito non ce la fanno più! C'hanno due lì, eh, io l'ho detto che c'hanno tre volte! Dai ragazzi! Dai ragazzi, dai ragazzi! Dai 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 dai! Sì, ma non è con l'ora! Nooo! 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 Qua la seconda l'abbiamo fatta noi, abbiamo vinto! Adesso... Quando fai due passate di seguito? Non fai d'anni dopo? Non fai d'anni dopo? Un vizio! Eh? E' di Andrea? Andrea cos'è? Però metà sola, eh! Oh... Questa metà la c'è per la meggiore... Eh... Nooo! Eh... C'è! Il cuore che c'ha io! Occhio! Grazie. 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 Fuori. Grazie. 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 Alpi. e sulla sabbia è pesante buona, buona, buona gara buona, buona gara buona gara buona gara bravo Massimo bravo dai adesso dai ragazzi bravo 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 Grazie. 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 Grazie.